la vera felicità consiste nel testimonio della buona coscienza se voi guardate i frutti di alcuni alberi sono assai vaghi di colore e di figura se voi li gustate sono deliziosissimi al palato eppure la radice da cui procede tanta venusta e dolcezza giace sotterra orrida allo sguardo amarissima al gusto così dice il crisostomo la tristezza di chi vive secondo dio è per produrre suavissimi frutti di giocondità lo sanno bene per esperienza tutti coloro che si sono afflitti alcun tempo per dolersi dei propri falli e hanno pianto con grandi lacrime nell'orazione dinanzi a dio hanno purgata la loro coscienza e chi sa dire il gaudio che ne deriva questa è diceva san paolo la nostra consolazione il testimonio della buona coscienza e in un altro luogo la scrittura paragona la letizia di una coscienza sicura a quella di un perpetuo convito dalla coscienza ben purgata sorge la buona speranza e se quelli che sperano d'essere eredi di molto denaro o di ricca possessione o di qualche principato sono sì allegri nella loro aspettazione quanto maggiore non dovrà essere la letizia di un'anima che attende con ben fondata fiducia l'eredità di un regno eterno celeste se pertanto quest'anima alzi gli occhi al cielo e la fede le mostri gli alti onori le sovromane ricchezze i purissimi diletti di quella patria felice la speranza tosto nel suo cuore risponde e questi beni sono tutti per me anzi sono miei qual conforto qual giubilo qual esultazione un attimo